Mister Tosolini, oggi il Pordenone ha guantato un pareggio proprio a tempo scaduto, ma diciamo è meritato. Credo di sì, le ragazze hanno fatto una gran partita, sono molto molto contento perché una partita giocata all'attacco in cui abbiamo sbagliato un rigore il primo tempo, poi ci sono stati anche un paio di gol annullati, non so poi giudicare se fosse giusto, corretto eccetera, ma anche con tante occasioni costruite, purtroppo non finalizzate, siamo stati bravi a crederci fino in fondo e credo che veramente sia meritato, anche perché noi in molte partite le abbiamo perse le ultime minuti e oggi le ragazze erano estremamente motivate anche a chiudere il discorso salvezza, quindi un punto che ha un sapore particolare contro una bella squadra, sapevamo che Firenze ha fatto un ottimo campionato, è più esperta di noi, siamo contenti, siamo soddisfatti.